In contatto telefonico con il meteorologo Giuseppe Stabile di Meteo7.it, Giuseppe, prima di entrare nel dettaglio delle previsioni meteo del fine settimana, puoi aggiornare i nostri telespettatori sulle condizioni attuali del tempo? Il Mediterraneo continua ad essere interessato da una circolazione depressionaria che rinnova condizioni di tempo instabile e a tratti perturbato sull'intera nostra penisola. La nostra regione al momento è interessata da nuvolosità irregolare che potrebbe determinare qualche piovasco sul settore settentrionale. Intanto un nuovo vortice di bassa pressione sta risalendo dal Nord Africa stimolato dall'affondo depressionario a carattere freddo proveniente dal Nord Europa che si porterà sul Mediterraneo centro-occidentale. Vortice che tra sabato e domenica si approfondirà sul Tirreno determinando un nuovo peggioramento su tutta la nostra regione, peggioramento che sarà preceduto da intensi venti di scirocco. Quali saranno invece le condizioni del tempo previste per questo fine settimana e quindi per le giornate di sabato 16 e domenica 17 novembre? Per sabato 16 novembre avremo cielo poco nuvoloso con tendenza ad aumento della nuvolosità sul settore centro-settentrionale della regione dove dal pomeriggio sera potrebbero verificarsi isolati rovesci. Nel corso della serata la nuvolosità tenderà ad aumentare anche sulle rimanenti aeree della regione con precipitazioni in intensificazione nel corso della notte. Temperature in temporaneo aumento, venti forti meridionali con raffiche di burrasca forte specie in mare aperto. Stato del mare pertanto molto agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Domenica 17 condizioni di cielo molto nuvoloso ovunque con precipitazioni diffuse specie nella prima parte della giornata. I fenomeni potrebbero assumere carattere di temporale anche di forte intensità in particolare sul settore occidentale della regione. Nevicate sulle cime dell'Appennino, temperature insensibile diminuzione con valori che si porteranno lievemente al di sotto della media del periodo. Venti forti da ovest sud ovest con mari in pessime condizioni. Puoi aggiornarci anche su come si svilupperà la situazione per la prossima settimana? Nessun spiraglio per un miglioramento duraturo anche per i primi giorni della prossima settimana, in quanto altre perturbazioni raggiungeranno la nostra regione, in modo particolare nella giornata di martedì 19 quando sono previste altre abbondanti precipitazioni. Probabile una tregua di almeno 48 ore da mercoledì 20, ma su questo invito i telespettatori a riaggiornarsi consultando il sito www.meteosette.it.